Una storia di sangue e lacrime che arriva da Capodorlando dove nella notte tra lunedì e martedì i poliziotti del locale commissariato hanno arrestato un 24enne con l'accusa di tentato omicidio. Il giovane dopo una lite per futili motivi si è scagliato contro il padre colpendolo con numerosi colpi di forbice. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale di Sant'Agata di Militello ma fortunatamente se la caverà con 30 giorni di prognosi. I fatti sarebbero accaduti intorno a mezzanotte e mezza circa quando il personale del commissariato orlandino agli ordini del vice questore Carmelo Alioto è intervenuto nel centro paladino a seguito di una segnalazione per una lite in famiglia. All'arrivo degli agenti l'aggressore si era già dato alla fuga. Il padre con evidenti tagli in tutto il corpo e sanguinante è stato trasportato dal 118 in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Agatese. Sembra che l'aggressore dopo aver avuto un diverbio per futili motivi. Il fumo di una sigaretta elettronica con il proprio genitore lo ha colpito alla testa con un bicchiere di vetro la cui rottura ha causato una ferita alla mano. Il 24enne si è poi recato con la mamma alla guardia medica dove i sanitari gli hanno applicato diversi punti di sutura al dito annulare destro. Successivamente il ragazzo ha lasciato il presidio sanitario autonomamente recandosi con alcuni amici per le vie del paese. Al rientro nella propria abitazione approfittando del sonno del padre non contento di averlo già ferito alla testa ha pensato bene di prendere un paio di forbici e colpirlo ripetutamente in tutto il corpo dandosi successivamente alla fuga. La violenza dei colpi è stata talmente efferata da provocare la rottura delle forbici che hanno causato molteplici ferite al padre per le quali l'uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico all'ospedale Sant'Agatese. Il giovane probabilmente in preda ad uno stato di shock è stato rintracciato dai carabinieri presso un noto locale del centro di Capodorlando con la maglia intrisa di sangue in completo stato confusionale. Il magistrato di turno della procura di patti coordinata dal procuratore capo Angelo Cavallo prontamente informato dell'accaduto ha disposto l'arresto e il giovane è stato poi condotto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto in attesa del giudizio direttissimo.